I tumori in provincia di Cuneo complessivamente sono ogni anno circa 2000 nuovi casi per quanto riguarda i maschi e 1500 casi per quanto riguarda le donne. Naturalmente abbiamo dei tumori molto più frequenti come il carcinoma del colonretto che riguarda circa tra uomini e donne 450-500 persone all'anno nella provincia di Cuneo. Poi abbiamo dei tumori che colpiscono prevalentemente soltanto un sesso e in questo caso abbiamo 430 nuovi casi di tumori di mammella per quanto riguarda la donna e altrettanto leggermente di più per quanto riguarda il carcinoma della prostata nell'uomo. Subito dopo viene il polmone, qui abbiamo circa 200 casi di uomini con tumore del polmone, le donne sono a circa 100 casi l'anno ma assistiamo per quanto riguarda il polmone ad un fenomeno di continua crescita nel sesso femminile e invece diminuzione nel sesso maschile e questo è legato alle abitudini del fumo che stanno riducendosi nei maschi e invece aumentando nelle donne e quindi si pensa che fra circa 8 anni sarà pari il numero di uomini e di donne colpiti dal tumore del polmone. Grazie. Grazie.